Il giorno che mi è entrata in studio la paziente che aveva una sindrome che ti porta a non muovere più gambe e braccia era con le stampelle, 16 anni, gli mancavano praticamente tutti i denti rovinati e dallo studio mi dicono questa non può essere finanziata, non ha soldi, non c'è chi paga le cure, mandatela via. Me ne sono andato via io. Sono stato un boy scout, sono stato un chirichetto, sono stato uno studente universitario, sono un amico ora e sono una persona che sta aiutando molte persone a tornare a mangiare. A tornare a mangiare è un diritto umano imprescindibile come vedere, sentire, mangiare è un diritto, un bisogno primario che dovrebbe essere garantito dallo Stato e da tutte le costituzioni del mondo. Non siamo le persone che c'è scritto sulla carta identità, siamo valori, quindi passato, siamo credenza, quindi presente e siamo divenire obiettivi. Io sono una persona che fondamentalmente ha degli obiettivi, dei valori e crede fermamente in quello che fa. Ho iniziato il percorso che ero giovane, ho iniziato il percorso che ero molto giovane e facevo un giro sempre più largo, non essendo figlio di dentista. Ho seguito molti maestri che mi hanno dato l'ettica, che mi hanno fatto ragionare in maniera differente su certi argomenti. a un certo punto questi giri diventavano sempre più larghi e mi contaminavo sempre di più con i pensieri di grandi persone. Al che poi, quando ti rendi conto che sei cresciuto in un paese dove certi percorsi di eccellenza hanno delle strade che sono meno privilegiate rispetto a altri percorsi, quindi altri prodotti o altri servizi, a che ho detto basta, non un'ora, non un minuto di più. Ho capito che la mia strada sarebbe stata altrove dell'eccellenza. Ho avuto la possibilità di conoscere grandi menti illuminate, quindi sono un condensato di persone che ho ascoltato, che mi hanno indirizzato verso certi obiettivi. Il lavoro che ho svolto questi anni ci aveva come oggetto prima di tutto SOS. SOS ed era nato come progetto quello di divenire da una partita IVA un SRL, da SRL una ONG. Quello è il passo finale su cui sto già lavorando. Quello che non puoi fare delle volte in Italia lo devi andare a fare in Europa. Quindi il dentista europeo gratuito, questo è il libro che ho scritto, che parla di diritto umano alla salute, promuove quello che è la petizione europea sul dentista europeo gratuito e che fa ragionare sui temi, sui grandi temi della salute in maniera diversa. Dentro a questo progetto c'è lo scopo, quello di svegliare le persone e quindi riflettere sul fatto che non è dove costa più, dove costa meno il medico, il chirurgo. La domanda è dovrebbe costare il medico, dovrebbe essere a pagamento oppure no. C'è un articolo, io mi sono andato poi, oggi venivo qua in Sardegna e mi sono rilevato, io mi leggo spesso il codice deontologico medico, medici, chirurghi e odontoiatri, ci sono diversi punti che sono molto interessanti. Per esempio l'articolo 27, te lo leggo, fornitura di medicinali. Il medico non può fornire medicinali necessari alla cura a titolo oneroso. È ovvio, perché? Perché sarebbe un conflitto di interessi. Ed è quello, è vietato al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o agli altri in debito lucro. Questo è nel codice deontologico, però abbiamo medici che ti dicono quello di cui hai bisogno e in cambio ti chiedono soldi. Cioè è strano che il medico ci ha il tarifario. Allora a quel punto è un conflitto di interessi dove il malato conviene. E' come l'immigrato o è come i bambini che stanno da noi in Moldavia negli orfanotrofi, che forse convengono. Quando si creano questi meccanismi, è d'eccellenza al medico? La domanda era questa. Allora è iniziato a ragionare su quello che fosse il vero problema. Oppure in quest'altro, all'articolo 6, i limiti dell'attività professionale, in nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale. Quanti biglietti da visita ho visto passare nelle asle? Quello è il vero problema, la causa di tutti i mali. Il fatto che se tu tieni un sistema dove c'è la sanità pubblica affiancata da quella privata, chi sta qua, manda qua. E per mandare qua, se vuoi aumentare il livello dell'acqua che va in quest'altro contenitore, basta mettere un tappo. Così continuano ad entrare i malati. Non li smaltisci, travasi là. Io ho questo modo di ragionare molto sulle cose, vado per immagini. Io ragionavo su perché sono diventato medico, ragionavo su perché avevo passato quegli anni a studiare, per poi sedermi lì con un tarifario a vendere le zucchine, le melanzane. La scelta non è stata difficile, è stata una scelta ragionata. Quando le cose, le ragioni per tanto tempo, per tanti anni, ti metti anche nello stato emotivo e tendi la corda, è quello che fa scattare poi tanto in fondo la freccia. Sono stati anni in cui tendevo la corda. Ho teso bene, bene, bene. Poi ho fatto in modo che la mia partenza fosse supportata da persone che ho conosciuto, progetti che fossero in un certo modo protetti da tutto il lavoro di preparazione che ho fatto. Diciamo che ho ragionato molto, quindi ragionando molto elimini tutti quelli che sono i rischi e pensi anche come vanno fatte meglio le cose. Avendo il tempo, quindi dandoti il tempo di pensare, la paura svanisce, perché la paura è solamente quando fai le cose in maniera non pensata, allora hai paura del rischio. Ora sono felice di far conoscere la Sardegna nel mondo a persone che conoscono la Turchia e non sanno neanche che esiste la Sardegna. Conoscono Charme Sheik e non conoscono la Spiaggia Rosa, Budelli. Perché? Perché c'è un problema, anche abbiamo un problema, il problema è che abbiamo grandi eccellenze naturalistiche, paesaggistiche, grandi menti illuminate, Berlinguer, provate a pensare tutti i grandi personaggi, Cossiga, che provengono dalla Sardegna, hanno fatto grandi cose nel mondo, ne ho conosciuto veramente tanti di Sardi che hanno fatto grandi cose, perché quando vai via da quest'isola l'obiettivo che ti metti è grande, deve essere veramente grande, perché dici vado via, però dall'altro lato devo compensare la grossa perdita che subisco o la grossa mancanza che avrò con un qualcosa che ti tiene vivo e che capisci il motivo che stai facendo, è un qualcosa che veramente compensa di parecchio quello che metti da parte. Io dico sempre tre cose, servono strade, autostrade, aeroporti. Tutte le grandi menti passano di lì. Se tu gli fai trovare anche solo questo, quello è già tanto. Poi fai le pubblicità sulle compagnie aeree, i grandi eventi in giro per il mondo e cercare di far conoscere. Se io faccio l'olio, fatta in casa ma me lo tengo per me nello scaffale, è di qualità. Ma lo sappiamo io e mia nonna. Questo è il discorso. L'olio va pubblicizzato. Va pubblicizzato con una giusta informazione, con le caratteristiche di come viene fatto, prodotto e raccontata la storia. La storia non può essere il prezzo dell'olio, la storia non può essere solamente la provenienza. La storia è il motivo per cui esiste quell'olio e cosa cerca di risolvere o a cosa si può affiancare. Se mancano tutti questi elementi, alla fine l'olio magari del Nord Africa, che loro magari riescono a raccontarlo meglio, più ci metti il buon prezzo, finisci di esistere. E' lì che finisci di esistere. Ed è lì che si perdono poi tante eccellenze. Molti dicevano che non ce l'avrei fatta, molti mai avrebbero pensato e avessi realizzato quello che hai realizzato. Io sogno tre grandi poli ricerca, sviluppo della bocca bionica, al quale sto già lavorando, Centro America, Asia, Est Europa, dove ci sia un connubio all'interno di volontariato, ricerca, sviluppo, insegnamento e produzione di materiali innovativi, cose che con un prototipo che ho creato si possono realizzare una sostiene l'altra e si può addirittura arrivare fino al non profit e quindi senza più essere sovvenzionati dal privato. Quindi quando arriverà quello posso andarmene.